Un osservatorio regionale sull'artigianato per supportare al meglio la categoria e la proposta che il presidente della CNA Salerno, Lucio Ronca, ha rivolto al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'Assemblea, che ha sancito la sua riconferma alla guida della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa. Vogliamo avere un punto d'incontro dove interlocuire direttamente. Bisogna che noi abbiamo un interlocutore unico in modo da poter trasferire le istanze che vengono dal basso. Così si accorce la filiera delle richieste. Uno dei tanti è quello dell'osservatore sull'artigianato. Un'idea condivisa dall'ex sindaco di Salerno che ha chiesto alla CNA di proseguire nel rapporto di collaborazione portato avanti in questa fase di emergenza sanitaria. Salerno infatti è riuscito a reggere l'urto della crisi, come confermato anche dal presidente nazionale Daniele Vaccarino, per il quale adesso è importante puntare sulla formazione. In tutti questi anni abbiamo speso moltissimo sulla formazione senza formare perché non si è capito che soprattutto nel settore dove la manualità rappresenta ancora l'elemento di differenza la formazione andava fatta da chi lavora.